La viola è 4G, è andata così, ricorda l'istice, dai di oggi voi. La viola è 4G, è andata così, ricorda l'istice, dai di oggi voi. La viola è 4G, è andata così, ricorda l'istice, dai di oggi voi. La viola è 4G, è andata così, ricorda l'istice, dai di oggi voi. La viola è 4G, è andata così, ricorda l'istice, dai di oggi. La viola è 4G, è andata così, ricorda l'istice, dai di oggi voi. La viola è 4G, è andata così, ricorda l'istice. La viola è 4G, è andata così, ricorda l'istice, dai di oggi. La viola è 4G, è andata così, ricorda l'istice, dai di oggi. La viola è 4G, è andata così, ricorda l'istice. La viola è 4G, è andata così, ricorda l'istice. Quanto ci mettono 5 minuti? Quanto ci stanno?